Sarà il primo liceo musicale dell'Alto di Reno Cosentino quello che a settembre a Praia Mare sarà aperto agli studenti con la passione per la musica, una scuola superiore a tutti gli effetti istituita in Italia con la riforma Gelmini. Si studiano tutte le materie comuni agli altri indirizzi che si distinguono solamente per le materie professionali. Le materie professionali in questo caso sono cinque, esecuzione e interpretazione, storia della musica, teoria, analisi e composizione, laboratorio di musica d'insieme e tecnologie musicali. Il liceo musicale si caratterizza come scuola specializzante e nasce con un preciso obiettivo. Consentire a quei ragazzi che avevano queste propensioni, questo talento musicale di seguire contemporaneamente una scuola liceale, quindi di fare un corso di studio normale e non essere costretto a seguire un istituto, una scuola superiore qualunque e studiare privatamente le materie e le discipline musicali. L'istituzione di un liceo musicale a Praia Mare è stata favorita anche dall'impegno dell'amministrazione comunale che ha messo a disposizione l'edificio delle scuole elementari, località foresta e una sala corredata di strumenti musicali e multimediali. Le iscrizioni al nuovo corso di studi si chiuderanno il prossimo 28 febbraio come per tutte le altre scuole. L'unica differenza è che per accedervi bisogna sostenere un test di ingresso. È un test di tipo attitudinale che verrà quindi eseguito dai ragazzi e verrà stabilita una commissione che sottoporrà questi ragazzi a questo esame. È una prova di tipo attitudinale, però se uno studente già suona uno strumento avrà anche la prova pratica. Alla fine del quinquennio agli studenti verrà rilasciato il diploma del liceo musicale. Questo diploma consente l'iscrizione all'università a tutte le facoltà, quindi diciamo che potrebbe uscire dal liceo musicale un buon medico, un buon avvocato, un buon ingegnere. Nello stesso tempo questo tipo di scuola consente il proseguimento degli studi universitari musicali, i conservatori si trasformano in corsi universitari, quindi l'alta formazione musicale ed artistica. Grazie. 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 Grazie.